bello a tutti ragazzi eccoci qui con un nuovo video, oggi sono qui con un video molto breve di 1-2 minuti per spiegarvi come scaricare un bel gioco che quando caricherò questo video penso l'avrò già fatto uscire e come vedrete dal titolo è Cat Mario e insomma questo gioco è molto bello come avete visto però è impossibile da fare, vabbè comunque naturalmente in descrizione ci sarà il link, non ha bisogno di nessuna installazione e occupa solo 7 megabyte, dovete scaricarlo da media file, quando lo avete scaricato avete questa cartella we are, ci cliccate, naturalmente vi uscirà la scritta vuoi comprarlo? No, non compro niente, andate su open, voi basta che cliccate due volte qui e si aprirà già il gioco, vuoi fare invio e il gioco parte, non serve che togliete i file, li mettete in una cartella, l'unica cosa è che quando volete giocare e dovete aprire questa cartella we are, cliccate su open scene active, cliccate due volte il gioco partirà da solo, quindi è molto semplice, spero di essere visto da tutto utile lasciate un like, commentate e iscrivetevi, e si commentate per qualsiasi dubbio e iscrivetevi bella grazie, bella